buonasera buonasera ci riprovo ci riprovo a fare un breve video per insomma raccontarvi della finale femminile della paolini della semifinale di musetti l'altro video non so perché ma a metà non c'era audio e quindi prima di parlare di musetti della paolini e della finale di domani maschile vi invito a iscrivervi al canale lasciare like al video attivare la campanella per le notifiche andare sul sito del fanta tennis perché insomma già da ora ci sono i nuovi tabelloni e la nuova possibilità di fare i pronostici vi ricordo l'importanza degli us open che quest'anno qualificano 1 alle finals e 16 alla coppa del grande sdem la novità del 2025 allora discorso paolini buona la partita di jasmine purtroppo un inizio un primo set in cui ha iniziato contratta ha praticamente regalato il primo set alla krejkova e poi poi si è svegliata però insomma non sempre le rincorse riescono quando parti con un set di svantaggio e per di primo 7 per 6 2 può capitare che poi per un dettaglio per una palla break per un game al servizio perché fino al fino all'ora nel terzo set la polini fino al tre pari non aveva mai avuto problemi al servizio ti sfugge via un turno di servizio l'altra poi gioca in maniera importante i punti che contano perché questo ha fatto la krejkova dal 4 3 ha giocato molto bene i punti che contavano ha mostrato un pochino di braccino nel chiudere ha dato due chance alla polini di rientrare la polini purtroppo anche per bravura della krejkova non le ha sfruttate la partita è andata come è andata sconfitta in finale che comunque suggella un ottimo torneo finale a rolanda rossa finale a wimbledon certo e resta il rammarico di due piatti di nessuna coppa questo sicuramente sì però insomma dai ce l'avessero detto a gennaio che la polini raggiungeva la finale sia a rolanda rossa che a wimbledon probabilmente non ci avremmo creduto vediamo cosa fa agli us open sarà dura confermarsi nel senso che gli us open è territorio di caccia di sviontech quindi bisognerebbe finire nell'altra parte di tabellone per avere delle chance bisognerebbe avere anche un po di fortuna come c'è stata in questi in questo torneo e anche a parigi negli incastri per cercare di andare avanti l'altra l'altra l'altro italiano impegnato è stato è stato lorenzo musetti venerdì ieri nella semifinale una semifinale tutto sommato giocata bene perché non possiamo dire che musetti ha perso giocando male musetti ha perso giocando bene il problema è che di là c'era un gioco vici versione monster e quando si presenta gioco vici versione monster lo possono battere in questo momento tre persone anche la sinner e medvedev il resto della compagnia quando trova gioco vici in versione gioco vici diventa dura e purtroppo per per il nostro per il nostro lorenzo ancora il livello è quello di un top 15 top 20 ancora lo scalino ma è già tanto aver recuperato un livello top 15 top 20 tre mesi fa era un top 50 con grosse probabilità di uscire dai 50 quindi il miglioramento è netto la fiducia per un finale di stagione dove si può solo fare meglio perché praticamente musetti non ha punti da difendere da qui a novembre può solo andare meglio non è certamente gioco vici la cartina di tornasole per vedere se stai bene o stai male gioco vi c'è un avversario che lo batti non non a winbredon non in uno slam almeno che tu non lo abbia già battuto prima e allora gli può insinuare come è successo con sinner il tarlo del dubbio altrimenti a winbredon in una semifinale una semifinale non è un ottavo di uno slam è qualcosa di più pesante e quindi e quindi è molto difficile però ecco io sono contento di entrambe le prestazioni sia di quella della paolini sia di quella di musetti voi mi direte alla fine qual non abbiamo quagliato niente non abbiamo vinto niente però abbiamo giocatori che arrivano costantemente in fondo e questa è una cosa che a lungo andare dovrà dare necessariamente sui frutti se arrivi sempre 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 al sabato alla domenica finale del torneo e beh prima o poi te ne gira storta una te ne gira storta due te ne gira storta 3 4 5 ma alla fine quella dritta arriva quindi io sono fiducioso in ottica us open sapete benissimo che per me le olimpiadi sono un torneo minore tra virgolette nel senso che considero l'olimpiadi l'evento più importante dello sport mondiale non per il tennis come non lo sono per il calcio non lo sono per il tennis il calcio alla coppa del mondo come evento di rilevanza e di importanza mondiale il tennis agli slam come evento di importanza mondiale l'olimpiadi è un torneo che si tira a vincere per avere la medaglietta per avere la medaglia d'oro per completare il palmarès e l'olimpiadi è un completamento di un palmarès non è l'obiettivo primario ho sempre detto se chiedi a un bambino cosa vuole tra wimbledon e l'olimpiadi potendo sceglierne solo uno sceglie wimbledon quindi il mio obiettivo io sono proiettato verso gli us open con un occhio a toronto perché la sinner dovrà difendere mille punti l'olimpiadi vada come vada insomma non mi strappo le vesti se gli italiani escono al primo turno anzi fondamentalmente ne sarei quasi contento perché ripeto l'obiettivo è arrivare in forma alle us open che sono il torneo che può dare può dare il secondo slam perché si gioca nella superficie probabilmente preferita da sinner può dare il secondo dei massi la finale di domani come ho detto nel video precedente ma non c'era audio secondo me purtroppo ci metto il purtroppo perché per sinner una vittoria di alcalaz sarebbe non dico un declassamento al numero due ma insomma le polemiche sul fatto che è numero uno solo perché è numero uno perché se lo merita intendiamoci però oggettivamente avere alcalaz a quattro slam e sinner a uno darebbe un po' fastidio diciamocela tutta mi dà meno fastidio voi sapete che non ho mai tifato gioco vich però stavolta mi dà molto meno fastidio i 25 slam di gioco vich piuttosto che quattro di alcalaz quindi io domani ti ferò gioco vich consapevole che vincerà alcalaz di questo ne sono ne sono certo anzi secondo me la quota dei boom makers 1 e 60 1 e 65 alcalaz è anche una quota molto generosa nei confronti del dello spagnolo che io vedo logico e netto favorito molto più molto più favorito di quanto dicono le quote dei boom makers detto questo visto che devo ripubblicare tutto tutta la svelta o un po un po fatto il riassunto di quello che avevo detto nel video precedente ma che per un errore tra virgolette tecnologico non è venuto ci vediamo ovviamente con i tornei della settimana c'è il 500 di amburgo c'è gastad e bastard c'è palermo per quanto riguarda le donne sono tornei in preparazione alle olimpiadi quindi capite che per le prossime due settimane il circuito insomma è in una sorta di stallo poi comincerà dopo le olimpiadi comincia il botto i 2000 americani l'open degli stati uniti e poi tutti i mille sparsi nel shanghai guadalara per le donne parigi bercy si arriva alla volata finale e lavorata finale bisogna presentarsi con il nostro yannick in pole position ciao a tutti e alla prossima